Quando si arriva ai quasi mille metri di Alpette, è naturale e immediato apprezzare il panorama, ma grazie ai potenti telescopi dell'osservatorio astronomico intitolato a Don Giovanni Capace, si può sollevare lo sguardo alla volta celeste. Grazie al clima e al panorama gradevoli e alla tranquillità dei luoghi e grazie all'osservatorio e all'ecomuseo del rame e della resistenza, Alpette passa dai 250 abitanti del periodo invernale ai 3000 del periodo estivo, alcuni dei quali soggiornano nella guest house Spazio Gran Paradiso. Il Pette è situato in una posizione splendida in quanto è a circa mille metri di quota di altitudine e quindi c'è un inquinamento luminoso abbastanza ridotto, anche considerando la distanza da Torino, comprensiva sia di planetario sia di sala riunioni, oltre che di osservatorio naturalmente astronomico, con degli strumenti diversi che consentono delle osservazioni molto interessanti e proficue sia di oggetti profondi, molto lontani come galassie, sia di oggetti relativamente vicini come quelli del sistema solare. E quindi è un osservatorio particolarmente indicato per questi motivi, soprattutto per la didattica e la divulgazione. Tutto cominciò negli anni 70 quando Don Capace realizzò il primo osservatorio installando un potente telescopio Newton nella canonica della chiesa parrocchiale. Il Polo Astronomico Don Giovanni Capace porta avanti le sue attività rivolte agli astrofili e alle scuole grazie all'entusiasmo degli Amici del Polo. Gli Amici del Polo Astronomico credono in questo progetto perché è un progetto unico in Italia, cioè il sistemare un Polo Astronomico e farlo utilizzare da astrofili i quali a loro volta, essendo appassionati, possono insegnare ai ragazzi che vengono in visita al Polo Astronomico i segreti dell'astronomia. La nostra mission è quella di divulgare l'astronomia attraverso non solo le osservazioni fatte con questo potentissimo telescopio che è secondo in Piemonte per le sue capacità, ma anche attraverso il planetario. Con una cupola di 8 metri veramente possiamo fare astronomia immergendoci all'interno dell'universo. Il riflettore del diametro di 60 centimetri installato nella cupola che sovrasta il municipio apre le porte alle profondità dell'universo, stelle nebulose e galassie lontane anche milioni di anni luce dalla Terra. Tutti i giovani che vengono qui a fare un soggiorno ad Alpette rimangono entusiasti perché percepiscono non solo la nostra passione, ma effettivamente qualcosa di speciale che c'è qui ad Alpette riguardo all'astronomia. Alpette riguardo all'astronomia attraverso non solo la nostra passione, ma effettivamente